In questi giorni mi è venuto in mente di dare un'occhiata un po' più da vicino alle pubblicità televisive. È una cosa che praticamente devo fare apposta, perché non è che sia questo grande fruttore di televisione in questo periodo e in generale, però per un motivo e un altro ho dato più attenzione alle pubblicità televisive. E mi è parso di notare una cosa, che in televisione ci sono delle pubblicità, non tantissime per la verità, ma alcune, che declinano il nostro rapporto con la tecnologia in termini luddisti. Che cosa vuol dire ludismo? Ludismo, molto velocemente, è quel movimento contro la meccanizzazione delle fabbriche di tessuti dell'Inghilterra dell'evoluzione industriale del XVIII secolo, il cui scopo era quello di distruggere queste macchine perché si diceva che sottraevano il lavoro agli operai tessitori. Quindi gli operai tessitori venivano sostituiti da queste macchine. Si chiama ludismo perché sembrerebbe che la persona che capitanava queste rivolte si chiamasse Ned Lude, anche se gli storici in realtà sono dell'avviso che non sia mai esistito Ned Lude, o meglio che la storicità di Ned Lude sia simile alla storicità di Robin Hood, nel senso che magari è effettivamente esistito, ma i contorni storici sono piuttosto sfilacciati. Quindi il ludismo fondamentalmente è quello che viene chiamato la rabbia antimacchine, cioè la distruzione delle macchine per motivi sociali e per motivi, in questo caso, industriali. Infatti, secondo alcuni, il ludismo può essere considerato un movimento protosindacale, cioè prima ancora che nascessero i sindacati. Comunque l'idea è quella fondamentalmente di una resistenza nei confronti della tecnologia, a che si esercita anche in maniera violenta. Ovviamente questa resistenza nei confronti della tecnologia sta un po' diventando di moda negli ultimi periodi. Infatti, dato che siamo intrisi in tecnologia, ci sono sempre più retoriche, ragionamenti, riflessioni, anche pop, nel senso anche nei discorsi mediali anche molto semplici, che riflettono sul fatto che noi forse dovremmo prenderci una pausa dalla tecnologia, il che può essere legittimo, però è un termine detto così, lascio un po' il tempo che trovo. Disclaimer, io sto un po' studiando il neoludismo contemporaneo, cioè le forme culturali e sociali di espressione e di resistenza nei confronti della tecnologia. Ancora non sono arrivato a particolare conclusioni perché ci sto riflettendo, però diciamo così, sempre su questi schermi, magari quando avrò qualcosa di più concreto, poi proverò a condividerlo. Chiuso disclaimer e chiuso parentesi. Però quello che ho notato è che nelle pubblicità che io ho identificato come neoludiste, c'è un modo, lo dico proprio perché mi piace la parola e perché rende molto idea, c'è un modo molto cringe di raccontare la resistenza nei confronti della tecnologia. Cosa vuol dire cringe per chi non lo sapesse? Diciamo così, è un termine molto giovanilistico e molto contemporaneo, che io per inciso preferisco ad altri termini che vanno di moda in questo periodo, tipo, tanto per non fare, diciamo così, tanto per fare i nomi, resilienza, cioè preferisco cringe a resilienza, e come tipo di, diciamo così, di contemporaneità linguistica. E quindi, fondamentalmente, cos'è il cringe? Cringe, prendendo, diciamo, la definizione, è detto di scene e comportamenti altrui che suscitano imbarazzo e disagio in chi le osserva. Il riferimento che ho usato è l'Accademia della Crusca. Allora, perché cringe queste pubblicità? Perché queste pubblicità, pur volendo dire la propria nei confronti della resistenza della tecnologia, e facendo questo veicolare fondamentalmente la commercializzazione di un prodotto, che fa notare il paradosso di tutto, comunque, usano però un linguaggio che, dal mio punto di vista, è piuttosto, non solo cringe, ma anche piuttosto vecchio nelle forme. Quindi sono qui, fondamentalmente, a riflettere in alta voce su alcune pubblicità che riflettono sul rapporto, in temi di resistenza, fra la tecnologia e l'uomo, e l'umanità e la società. Ma nel farlo usano un tono cringe, quindi molto, diciamo, piuttosto imbarazzante per chi lo vede, ha fatto in specie io, perché ovviamente non ho fatto una ricerca in questo senso, ma ho utilizzato me stesso come cartina al tornasole del tipo di riflessione che viene veicolata da queste pubblicità, senza voler renderle troppo, diciamo così, più culturali di quanto esse non siano. Ma c'è anche un'altra cosa, che il linguaggio che usano è molto vecchio, cioè, secondo me, il tipo di impostazione, di ragionamento che usano è assolutamente vecchio, e cercherò di mostrare per quali motivi sia vecchio questo ragionamento. Cominciamo con la prima, che è la campagna di Alfa Romeo Tonale Hybrid. La campagna si chiama Live Unpredicability, è del 2022, l'agenzia è Havas, è un'agenzia importante, e la musica che viene usata a commento della pubblicità è una cover dei CCCP, Amandoti, una cover fatta ad hoc. Vediamo qual è il concept della pubblicità. Buongiorno, sono il tuo algoritmo, so quanto ti allenerai, quale piatto ordinerai, so esattamente cosa desideri. No, non lo sai. Allora, l'idea quindi è piuttosto evidente, diciamo così, c'è l'algoritmo che parla, che dice, salve, sono il tuo algoritmo, e so perfettamente quali saranno i tuoi gusti, i tuoi interessi e le cose che farai. E poi c'è il momento, appunto, luddista, di resistenza, no, non lo sai, perché ovviamente l'idea è quella di dare visibilità ad un'automobile che in realtà non è, o almeno nei modi con cui l'art director l'ha voluto declinare, la campagna l'ha voluto declinare, non è così prevedibile come un algoritmo potrebbe immaginare. Quindi questo è il concept. Ah, però questa pubblicità, ovviamente, fra tutte quelle che presentano, è quella più moderna, più innovativa, più patinata, infatti è una campagna pensata per il mercato, non solo italiano, ma per il mercato internazionale e l'agenzia, un'agenzia internazionale, che è Hamas. Però la cosa interessante è che, nonostante tutto, anche questa campagna c'è un piccolo momento cringe, secondo me, molto, diciamo così, molto contenuto, ma che rivela, secondo me, alcune delle cose nascoste di questa campagna. Il momento cringe è questo. Alexa, annulla i miei impegni di oggi. Cioè, questa cosa mi sembra molto curiosa. Cioè, tu dici che l'algoritmo non può prevedere i tuoi gusti così futuribili che ti faranno scegliere questa nuova vettura dell'Alfa Romeo, e poi però dici ad Alexa, mi è parso di capire che dicesse Alexa, di bloccare gli appuntamenti, quindi alla fine poi ti affidi agli algoritmi. Secondo me questo è un momento, diciamo così, più che altro paradossale. Quindi, fra tutte le pubblicità, questa è comunque quella più, diciamo così, meno cringe, meno, diciamo così, imbarazzante, e per certi versi anche più contemporanea, perché non si lascia prendere dai voli pindarici delle esistenze antitecnologiche to cure, ma fa qualcosa di un pochettino più, diciamo così, concreto, o comunque più vicino alla nostra esperienza. La seconda pubblicità che secondo me comincia a diventare sempre più cringe è la pubblicità relativa alla campagna dell'Amaro Montenegro. La campagna si chiama Human Spirit, è una campagna del 2018, però ancora adesso è in programmazione prevalentemente televisiva. L'agenzia di riferimento è Armando Testa, e la musica utilizzata a commento della campagna è Human di Rugged Bone Man, che sarebbe, diciamo così, I'm only human after all, no? La frase centrale di questo brano è io, dopo tutto, sono un essere umano. La campagna è, diciamo così, piuttosto cringe, vediamo per quale motivo, vediamo un po' il concept di questa campagna. Hai un programma per battermi a scacchi, un programma per vincere a ping pong, un programma per dare il meglio in cucina, e anche un programma per suonare da paura, hai programmi per superarmi in ogni cosa. Il concept è piuttosto chiaro, hai un programma per battermi a scacchi, hai un programma per battermi a ping pong, ma hai un programma per battermi in cucina, per suonare da paura, e per battermi in ogni cosa, e c'è il tizio che corre. A parte il fatto che, diciamo così, il piano della comunicazione è l'immaginazione, perché al di là del fatto che esistono sicuramente computer che giocano a scacchi, il riferimento classico da questo punto di vista è Deep Thought dell'IBM, però tutti gli altri sono speculazioni, perché al momento non mi pare di vedere delle cucine stellate o degli chef o dei ristoranti, dei robot, lo so è questione di tempo, però è una questione o dei robot che corrono o che giocano a ping pong, cioè sicuramente il livello è quello dell'immaginazione, quindi io ho programmi per fare, tu hai programmi per fare questo, tu hai programmi per fare quest'altro, eccetera, eccetera. Ma è il momento cringe, diciamo così, il momento proprio imbarazzante per una pubblicità che si vuole dire di resistenza nei confronti alla tecnologia, quindi con un'impostazione umanistica, quindi gli uomini prima di tutto, e le donne, quindi l'umanità prima di tutto, eccetera, eccetera, è proprio questo momento cringe che, diciamo così, vado a mostrare. Io ho programmi per la serata. Cioè, tu hai programmi per battermi qui, per battermi mi, per battermi lassù, ma io invece ho programmi per la serata. Quindi, il gioco di resistenza nei confronti della tecnologia è che tu lavori in un mondo, diciamo così, in maniera perfezionabile, e io mi vedo con gli amici per prendere un amaro al bar. Carino. Ma qual è l'opposizione? Cioè, perché prendersi un amaro al bar dovrebbe essere, diciamo così, in opposizione al fatto che esistono macchine che possono fare meglio cose rispetto a quanto le possiamo fare noi? Perché siamo più umani e quindi le persone umane, bevendo responsabilmente, si incontrano al bar a bere un amaro? Non lo so. A me mi fa molto cringe. Tra l'altro, non so se avete notato, le persone che stanno al bar sono gli stessi che venivano abbattuti dalle macchine. Quindi, alla fine, le macchine ci battono in tutto, ma noi, poveri sfigati, ci vediamo a bere un amaro, sei un altro. Siamo umani e ci vogliamo bene. Non lo so, poteva essere reso anche in maniera un pochettino più raffinata l'idea, cioè il concetto. Comunque, questa, fra tutte, secondo me, è quella molto cringe. però è cringe ed è anche molto vecchia come impostazione perché lavora di fantascienza su cose che in realtà fatte nel 2018 potrebbero essere un pochettino più concrete. Quindi, si vedono questi robot che sono nemici a questo punto dell'amaro che deve essere bevuto al bar. Non lo so, la capisco fino a un certo punto. C'era una volta l'amaro da bere, adesso c'è la pilano da ascoltare. Questa, diciamo così, campagna, la campagna di RTL1025 che si chiama Il potere di essere umani. È una campagna lanciata ad aprile del 2022. L'agenzia è Service Plan Italia. Anche, diciamo, se usando delle fotografie, il fotografo è un fotografo, diciamo così, piuttosto patinato, che è Tony Thorinbert e il, diciamo sì, quello che promuove non è tanto il brand RTL1025 ma il suo servizio di radiovisione. Cioè il fatto che, come tutti ormai immagino sappiate, RTL1025 oltre ad essere fruita radiofonicamente può essere anche vista o sui canali digitali terrestri, digitali satellitari, ma credo anche in streaming. Adesso non me lo ricordo bene. Ma la cosa interessante è sia il concept che i diversi momenti cringe che ha questa campagna. Vediamoli un attimo. Noi siamo RTL1025, la radiovisione fatta di uomini e donne in carne, ossa, voce e un cuore che ci rende vivi. Allora, l'idea è piuttosto evidente, no? E il concept, il nocciolo creativo è piuttosto evidente. Noi siamo RTL1025 fatto di uomini, donne, carne ed ossa e abbiamo un cuore, eccetera, eccetera. Quindi c'è la solita questione del fatto che la radio è più umana e sicuramente diciamo così andando in linea con l'interpretazione che voleva della radio Masha McLuhan essendo un mezzo caldo la radio sicuramente può essere più coinvolgente e più umana. Fino a questo punto niente di grave. Quello che però succede di cringe e di interessante è come si sviluppa questo concept. Fondamentalmente è in opposizione alla, diciamo così, ad alcune caratteristiche o presunte tali che dovrebbero essere tecnologiche. Vediamo proprio uno dei primi momenti cringe di, diciamo, si insalza neoluddista di questa campagna. Non sottovalutare gli esseri umani perché, vedi, un computer può calcolare la musica da farti ascoltare. Allora, prima di tutto il tono, diciamo così, non sottovalutare gli esseri umani ma che li sta sottovalutando cioè, perché poi stiamo a sentire radio tutto al più stiamo vedendo stiamo vedendo delle persone che in piedi stanno parlando davanti a un microfono perché quel microfono li mette in onda in radio ma chi li sta sottovalutando. Poi questa cosa un computer può calcolare la musica che ti piace? No, non lo fa. Eventualmente può suggerire non può calcolare. Credo che stiamo facendo riferimento più che altro alle piattaforme tipo Spotify. Però non ha senso. E poi c'è una cosa che lo rende insopportabile questo passaggio. Il tono paternalistico. vedi un computer potrebbe potrà anche calcolare la musica che ti piace. Sì, ma perché me lo devi dire in questo tono paternalistico? Prima lo devi capire definire cosa intendi tu per che io possa considerare che è meglio sentire Spotify che non vedere la vostra radio perché quello è quello che stanno diciamo così promozionando. E poi perché sto tono paternalistico vedi adesso io ti spiego il mondo e non è vero come si dice in giro che è meglio ascoltare Spotify. Cioè primo momento cringe. Vediamo il secondo. Ascoltare cosa hai da dire per poi parlarti e arrivare al cuore. Ascoltare cosa hai da dire per poi parlarti e arrivare al cuore. Ascoltarti. Voi l'avete mai vista come vengono messi in onda le telefonate durante le diverse trasmissioni radiofoniche di RTL-1025 che io fruesco più che altro d'estate essendo in macchina andando da casa al mare dal mare a casa e come fanno tutte le diciamo così trasmissioni radiofoniche o quasi tutte le trasmissioni radiofoniche che presuppongono le telefonate o l'interazione col pubblico. Vediamo questo perfetto sconosciuto cosa ha da dirci e leviamocelo subito dalle scatole. Questo è un po' il concept diciamo così del rapporto che fa le cose. quindi dire cos'hai da dire raggiunge il cuore chi cosa ha da dire sicuramente non l'audience perché viene trattata come un amminicolo della programmazione del parinsesto del clock radiofonico e poi perché raggiunge il cuore mi dici qualcosa che mi colpisce il cuore o semplicemente stiamo aspettando la prossima insessione pubblicitaria questo secondo me è un altro scivolone cringe ma non basta è il potere della nostra radiovisione il potere di essere umani cioè il potere della radiovisione è il potere di essere umani fammi capire quindi mi stai dicendo che se io guardo delle persone in televisione che stanno parlando per essere messi in onda in radio in realtà sto guardando il potere di essere umani caspita mi è proprio venuta voglia di guardare il canale televisivo variamente declinato sulle piattaforme digitali esistenti di RTL 125 sì credo che interromperò questo video per andare a guardare il canale streaming di RTL 125 cioè non c'era un modo migliore per rendere questo concetto cioè per forza questa sterile opposizione in cui gli esseri umani vincono soprattutto ma non è chiaro per quale motivo cioè per le emozioni non c'era un modo valorizzando la dimensione professionale cosa che può fare sicuramente uno speaker ma non uno spotify non lo so ora è evidente che il mio è sicuramente diciamo così un'operazione umoristico variamente declinata è sicuramente ironica quindi in realtà non ce l'ho con queste pubblicità anche se ma a me fanno molto ridere e soprattutto mi fanno capire come i creativi che sono dietro queste queste campagne più che altro quella della Amaro Montenegro e quella della RTL 125 non hanno idea in che periodo storico ci stiamo noi ci troviamo infatti queste campagne pur volendo essere appunto un eludist eccetera eccetera sono molto imbarazzanti quindi molto cringe nel momento in cui le stai a sentire perché sono fuori tempo massimo sono essenzialmente delle campagne vecchie e sono vecchie per due ordini di motivi in primo luogo appunto rivista linguistico cioè come esprimono il concetto linguistico in senso ampio cioè c'è una finta critica sociale nella Amaro Montenegro dei robot nel RTL 125 diciamo così nei confronti di non è chiaro di un computer che può calcolare mentre ovviamente la campagna dell'alfa romeo tonale è più concreta perché parla di algoritmi quindi già c'ha un linguaggio più contemporaneo anche se poi casca nel meccanismo di chiedere ad Alexa di Alexa rendimi umano che questa cosa mi fa piuttosto sorridere quindi il primo motivo per cui sono vecchie è dal punto di vista linguistico cioè proprio come esprimono questi concetti che potevano essere espressi in un altro modo il secondo motivo per cui queste campagne sono profondamente vecchie è culturale cioè queste campagne presuppongono una diciamo così contrapposizione uomo macchina che aveva senso negli anni 80 quando sono arrivati i computer sulla scena pubblica aveva senso negli anni 90 quando si parlava di cyborg in termini diciamo così immaginario perché era appena arrivato internet e non era ancora chiaro cosa fosse soprattutto c'era una forma di esotismo sociale per cui c'era delle comunità online che potevano essere interessanti perché facevano cose strane eccetera si poteva fare il cosiddetto gender swapping quindi uomini che potevano nelle chat far finta di essere donne cose che in realtà non è mai stato vero fino in fondo quindi questo è sicuramente una questione quindi sono antiche dal punto di vista anche culturale perché nel ventunesimo secolo il problema non è tanto l'opposizione fra uomo e macchina nel ventunesimo secolo se vuoi fare una critica sociale è anzi è l'eccessiva simbiosi che si è venuta a creare tra l'uomo e la macchina di cui ci sono sicuramente degli aspetti vantaggiosi posizione transumana transumanista ma ci sono anche delle posizioni problematiche posizioni diciamo così di tecnocritiche invece che tecnotimiste cioè poteva essere sicuramente in altro modo questo tipo di concetto cioè io esprimo il mio concetto creativo di promuovere il mio prodotto o il mio servizio fondamentalmente però lavorando sul contemporaneo su come viene declinata la tecnologia contemporaneamente e come in realtà si potesse diciamo così si possa con la tecnologia instare a un rapporto diverso o comunque valorizzando la dimensione umana che dal mio punto di vista è assolutamente legittima quindi fondamentalmente appello a tutte diciamo così i creativi e le creative che stanno progettando campagne di advertising variamente declinato che vogliono lavorare sul concetto perché magari suggerimento del cliente opposizione fra uomo e la macchina valorizzando l'uomo presumibilmente anche se ricordo che c'erano alcune pubblicità degli anni degli anni 80 che invece dicevano che la tecnologia era l'aspetto più importante mi ricordo quella della Telefunken poi magari qualche volta ne parlo in maniera un pochettino più approfondita la cosa secondo me interessante è che appunto facendo un appello a tutti coloro dei quali creativi che deve lavorare da questo punto di vista dal punto di vista del fatto che la campagna si deve concentrare sulla differenza uomo-macchina a prevalenza dell'uomo è questo assumetelo o consultatelo un consulente che magari è anche uno studioso di culture digitali ce ne sono tanti in Italia e sono tutti anche piuttosto quotati esistono delle riflessioni talmente sofisticate nei convegni di sociologia dei mia digitali sociologia digitale che frequento che aggiudicate a queste pubblicità nel mondo della produzione e della narrazione creativa non sono minimamente presi in considerazione di cui non si conosce niente l'esistenza quindi a tutti i pubblicitari in ascolto investiteli qualche migliaia di euro per chiedere una consulenza dal punto di vista del concept generale agli studiosi variamente declinati di culture digitali perché in Italia ci sono sono bravi ed evitebbero magari di fare questi scivoloni cringe che alcune campagne secondo il mio modesto punto di vista secondo me hanno fatto ecco questo è un po' il tipo di idea per tutti voi che avete seguito fino adesso vi ringrazio magari seguitemi sui miei canali sono un po' dappertutto però c'è una cosa che vorrei chiedere fatemelo qualche commento sono curioso di sapere il vostro punto di vista io ovviamente ho parlato come si dice in altavoce nel senso che ho navigato a vista mi era venuto in mente di fare questo video su quanto sono cringe le pubblicità che declinano l'opposizione uomo macchina del ventunesimo secolo e volevo un po' sapere voi cosa ne pensiate anche perché come me immagino frequentate il mondo della tecnologia e quindi presumo possiate avere una sensibilità diversa da quella che sembrerebbero avere alcuni hard director di alcune campagne che stanno girando in questo periodo che stanno girando